La fase difensiva non prendete gol ormai da tantissimo in campionato da fine settembre, però in avanti si ripropongono più volte determinati problemi tra centrocampo e sulla tre quarti, quella mancanza a volte dello spunto, un po' di fantasia. Perché nell'ultima parte di partita, non solo dieci minuti, non si può provare a metterli tutti insieme, non so, i Politano, i Lautaro? Oggi era troppo rischioso perché vedeva il Sassuolo pericoloso nelle ripartenze. Si può, si può. Secondo me si vorrà dei rischi superiori poi per la linea difensiva, perché poi come si è visto da ultimo, in quelle due o tre situazioni i rientri sono fatti da attaccanti e non sono fatti da centrocampisti. E' sempre l'equilibrio poi quello che comanda, quello che conta. Però si può, come abbiamo fatto altre volte, è chiaro che come linea difensiva oggi abbiamo fatto molto bene, anche quando siamo stati puntati per aver perso delle palle banali in delle ripartenze. Come fase offensiva dobbiamo fare qualche cosa di più, però poi dobbiamo fare qualche cosa di più individualmente, anche non sempre dovendo avere il supporto di quegli altri che debbono di quelli che debbono venire a darmi una mano, dobbiamo fare qualche cosa di più individualmente negli uno contro uno, nel crearsi lo spazio o crearsi il vantaggio individualmente nel duello. E su questo dobbiamo fare dei passi in avanti. In golana ancora probabilmente non sta benissimo per quello che si è vista anche stasera e quindi quando l'ho messo dentro ci poteva dare una mano se fosse stato completo delle sue possibilità. Però poi la partita è questa dove loro hanno fatto molto bene, dove noi abbiamo riconquistato molti palloni della loro metà campo e poi la gestione è stata fatta approssimativa perché li abbiamo ripersi troppo velocemente questi palloni riconquistati. Che qualche volta devi andare a forzare la giocata perché loro, provando a giocare perché è una squadra che gioca, si aprono e quando riconquisti devi andare a velocizzare perché se riconquisti sulla tre quarti c'è un'imposizione, è una regola. Si va prima possibile a tentare di fare gol. Se riconquisti sulla metà campo allora no, allora va fatta girare perché sono due zone diverse. Noi quando abbiamo riconquistato abbiamo sempre avuto lo stesso atteggiamento, due passaggi e l'abbiamo ripersa subito, per cui questo ci è costato poi delle corse, delle fatiche che non ci hanno permesso di posizionarsi stabilmente nella loro metà campo e di fare poi la partita montandogli addosso sempre perché le distanze erano corti. Il spazio che si crea lì sulla tre quarti a creare qualcosa di sostanzioso in alcune partite facciamo un po' di fatica perché il giocatore che avevamo poi preso per giocare in quella situazione di Enna in Golan per ora non è mai stato poi in grande condizione di poter giocare, gliene sono successe due o tre per cui siamo convinti che poi per noi questo sia un acquisto importante nel prossimo futuro l'averlo a disposizione e averlo in condizione perché può darci sotto quell'aspetto che diceva lei adesso. Secondo me Mauro non le soffre le pressioni perché nonostante la giovanità è uno che ha alle spalle di Ibrahimovic, spalle larghissime, grossissime perché è uno forte da un punto di vista mentale e caratteriale. Poi è chiaro che dipende anche lì che aspettative si creano e diventa insufficiente quello che fa perché se si aspetta che faccia got tutte le partite chiaro stasera ha partecipato un po' poco deve partecipare di più però sono cose che possono succedere insomma giocare una partita probabilmente un po' al di sotto delle proprie possibilità L'ultimo qui davanti Lei che mi ha chiesto Prego l'ultimo Io volevo solo sapere Ne ha parlato adesso di Nengolan però volevo proprio sapere se lei ha preferito proprio non metterlo in campo dal primo minuto perché comunque l'ha visto meno bene di quello che ci si aspettava oppure e poi volevo capire la sua partita in quei minuti come l'ha vista Allora, se non lo faccio giocare perché vedo meglio degli altri perché se no lo farei giocare perché faccio giocare quelli che mi sembrano più in condizione di vincere la partita L'ho visto come me lo aspettavo cioè che non è ancora in condizione importante per metterci il suo marchio dentro dentro quello che è la gara Per cui bisogna continuare a lavorare, bisogna continuare a metterci altra roba come si diceva prima, come si è detto ieri, nei muscoli o nel motore per poter andare forti L'ultimissima qui No, volevo l'ultima cosa, volevo chiederti sull'ambiente, meglio uno stadio con i bambini piuttosto che vuoto ma quanto è mancato poi tutto il pubblico? La penalità la senti, la paghi quando ti manca il pubblico E però è stato gradevole sentire l'urlo dei bambini, dell'innocenza dei bambini che chiamavano tutte le squadre, si erano messi d'accordo, si erano raggruppati Quelli che chiamavano altri colori, altre squadre ed è bello così, praticamente il titolo potrebbe essere stadio pieno di amore per il calcio Grazie Buonasera a tutti Grazie